Ibiglia Marcord parte da Roma, la nostra capitale, una città ricca di storia e cultura, forse la più bella al mondo. Visitai per la prima volta Roma all'età di 23 anni. Ci capitai quasi per caso, facendo scalo con l'aereo, due ore in cui Roma mi entrò subito nel cuore. La scopri veramente quando abitai due anni per motivi di studio nella vicina Spoleto, e ogni occasione era buona per muovermi verso la capitale e scoprire un pezzo in più. In tutto avrò soggiornato a Roma una ventina di volte. Con Ibiglia Marcord vi regalo una carellata di foto e video delle mie esperienze, dei casting, delle audizioni, dei lavori in tv, ma soprattutto degli splendidi lavori e produzioni al Teatro dell'Opera di Roma. Sogni, ricordi e atmosfere assaporate attraverso i miei occhi. Andiamo a comandare tutti dal 14 al 24 giugno al gatto dell'Opera di Roma. Il viaggio Reigns. Io parto adesso. Ciao ciao! Grazie a tutti i miei occhi. 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 Grazie a tutti i miei occhi.